Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Crazy Adventure ragazzi, episodio anomalo Intanto voglio farvi vedere che qua, sbam, ho sviluppato la chest Perché finalmente, e anche tipo il mio inventario qui, perché finalmente ragazzi io ho messo tutto dove doveva stare Tanto l'ho anche ordinato già che c'era Infatti andiamo nella banca, alla The Bank proprio Ed è così E praticamente qua, devo ancora metterci i cartellini sopra, sceglio già i cartelli ma tipo non ho voglia di metterli Comunque vi faccio vedere cosa ho fatto Questa qui è tutta di biglietti da 1 Questa totalmente piena, vabbè totalmente piena insomma, soltanto di biglietti da 5 Qua soltanto di biglietti da 10, qua dovrebbero essere quelli da 50 Sì esatto 50 Nella chest segreta ragazzi della 007 abbiamo uno stack e mezzo di biglietti da 100 dollari Che sono tanti Un po' di biglietti da 500 dollari che sono molti Un biglietto, soltanto un biglietto da 1000 e soltanto uno da 5000 Che se non sbaglio è quello che ci aveva dato l'alieno Oppure ci aveva dato quello da 1000, non me lo ricordo quelle che ci aveva dato Però appunto sono una chest segreta perché è più figo Comunque oggi ragazzi andremo a fare una cosa abbastanza strana Intanto sì, penso che sia figo l'accesso alla caverna su, cioè dietro la banca Cioè è una cosa un po' strana Comunque ragazzi sono... Cioè stiamo andando in caverna, non perché faremo... Cioè oddio sì, in effetti potrebbe essere un episodio in caverna Ma fermi, fermi, fermi Non è un episodio in caverna normale Perché infatti ho trovato una cosa strana Cioè non è una cosa strana, è una cosa che effettivamente stavo cercando Stavo facendo dei test Perché mi sono informato un pochettino Io ho visto che spona soltanto a livello 10 da quello che ho capito Quindi sono andato un pochettino a livello 10 a scavare E effettivamente ho trovato questa qui E vi direte cos'è? Metano è roccia normale Non è roccia normale ragazzi Intanto andiamola a prendere, madonna Ma riesco a prenderla? Sì ok no no Se non abbassava questo piccone qui ragazzi Io penso che tipo smattavo tantissimo Quindi si trova precisamente ad altezza bedrock proprio E non ce n'è altra? Oddio ragazzi se me ne perdo soltanto un pezzo smatto tantissimo A parte che ora facciamo una cosa bella tattica Ok no non ce n'è altra, forse ce ne sarà altra qui intorno Perché comunque so che è abbastanza rara Mi sembra che lo spawn sia di due pezzi O qualcosa di simile su ogni chunk Cioè due, non due pezzi Nel senso uno e due Ma diciamo due mallopi Due cosini lì di così Dovrebbe essere raro più o meno come il diamante Ovvero un chunk ragazzi non so quanti blocchi siano Perché sinceramente non mi ricordo Ecco possono spawnare in due punti diversi Questi oggetti qui Quindi sono molto molto rari E appunto non ho ancora detto cosa sono Sono un transformium ore Quindi ragazzi il transformium Vi direte e metano ma si ma tu ci stai dicendo questo Ma cosa cavolo è questo transformium Ragazzi andiamo su perché tanto Qua non ha senso farvelo vedere Già che poi non lo possiamo utilizzare in caverna Perché tanto ragazzi bisogna cuocerlo Perché appunto è un ore Quindi gli ore vanno cotti Allora ragazzi il transformium una volta cotto Cioè il transformium ore una volta cotto Ci dà il transformium Che sinceramente non saprei come tradurlo Penso che si possa definire Una specie di materiale multiuso modellabile Capiamoci come Prendetele con le pinzette Quello che sto dicendo Il pongo Che è tipo quella roba lì O insomma Insomma robe sì Che voi ragazzi prendete Ci potete fare il cavolo che vi fa Insomma ci costruite tutte le vostre aggegiatine Ma appunto potrebbe essere la creta E robe varie E appunto mettiamola a cuocere Quindi leviamo questo schifo Perché mi sta cuocendo Ah già è vero perché dovevo finire il pavimento Ah sì un giorno Ah ho fatto una cesta tipo di materiali da costruzione Quindi così non mi si incasina tutto E appunto ragazzi ve lo faccio subito vedere il transformium Che già stava qui Quindi insomma piccoli spoiler Con questo transformium A parte delle armi che ritengo abbastanza fighe A parte questa che fa 8 di danno Ok però non vedo eccessivamente bella Ci si possono fare varie armi che sparano Che fanno tante belle cose E vabbè noi in questo episodio non andremo a fare queste Perché non penso di potercela fare A fare tutto Ma andremo a fare questo transformium detector Che serve per trovare altro transformium Perché ripeto è molto raro E io non posso stare come ho fatto prima off camera A scavare tutto il mondo Quindi penso che mi farò assolutamente questo E appunto serve per Da quel capito dovrebbe funzionare Tipo con un suono Non so che suono ma con un suono E praticamente serve per trovare altre di queste cose qui Comunque queste palline ragazzi ripeto Cos'è che ci si fa di tanto interessante A parte le armi E le armature Ma guardate questa armatura qui fa schifo E' veramente brutta Cioè cosa sarebbe Una tutina del cavolo Cos'è potente E no non è potente Cioè forse è anche potente Ma non lo so Ragazzi Clicco col destro Sbam Ci si possono fare Le armature Dei transformers Come più o meno Poteva essere spoilerato qui E vi dirò di più Una volta tipo che Come potete vedere Non sono difficili da fare Perché ok Il corpettino è questo Se io clicco tipo sul jet coso Si fa con del ferro E con della redstone Cioè non è nulla di particolare Se io clicco qua Che potrebbe sembrare un pezzo strannissimo Un cosa si fa Con dei blocchi di ferro E del giallo Vetro giallo Cioè non è nulla Veramente Questo cos'è Ferro e transformium Ragazzi veramente A parte il transformium Non costa nulla Questa roba qui E una volta che abbiamo L'armatura completa Possiamo appunto Trasformarla Nel coso qua Che ragazzi I transformers Come tutti voi saprete Sono tipo dei robottoni Che si possono trasformare In appunto Veivoli In genere Cioè tipo Ce n'è uno qua Che è un car armato Ce n'è uno Che diventa un aereo E il problema cos'è Che una volta che Ho messo insieme L'armatura Cioè l'armatura ovviamente Si può indossare Perché è una normalissima armatura Una volta che ho messo L'armatura insieme Si crea queste cose qua Che non mi sembra Possano Cioè non so Se si possono Ritrasformare in armature Però Ci si può provare Comunque Allora perfetto Ci ha dato anche l'achievement Ci serve tanta redstone Che io Non so se abbiamo Comunque l'abbiamo Sicuramente l'abbiamo presa Però Ok Eccola qui 45 Se non sbaglio Si arriva a un blocco Com'è che funzionava E poi ci serve anche Dell'enegron crystal L'ho visto Che voi mi avete sempre detto Di prenderli È vero Lo so benissimo Però io non li ho mai presi Perché sinceramente Non li trovavo molto utili In quel momento Allora si ok 3 di redstone Un'enegron E del ferro Quindi mi basta Portarmi dietro queste cose qui In caverna E tanto C'ho la craft Indievole portatile Che appunto è questa qui A parte c'ho Altra redstone Quindi va anche bene Ok perfetto Quindi andiamo in caverna A cercare l'enegron crystal E io so anche dove trovarli Però tipo Mi sa che mi perderò Perché ragazzi Io ho La magia Il potere Di perdermi nelle caverne Comunque no In teoria Se mi ricollego Alla caverna principale Che era quella Più o meno Ad altezza 15 Forse era Se non sbaglio Dove riuscire subito A trovare l'enegron Perché mi ricordo Più o meno Dove stava Ok Tipo dovrei saltare Qui Ok Uh attenzione Io l'ho fatta Allora Dove andare Qua sulla No No Sì 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 Ok no Mi confondo Ragazzi Mi confondo Tantissimo Qua perché salgo Ah perché avevo sentito I rumori dei mob Eccolo qui Perfetto Però non so se è questo l'enegron Perché ci sono i pezzettini Ecco questi pezzettini qui ragazzi Sono da quel capitolo Le munizioni Del L'agilio che ci serve Però questo non è l'enegron Forse è questo Vediamo No questo è un cristallo Cosa sei? Sei un uccellino Delle profondità? Uh Poverino Eh è morto subito così Ok E quindi Se i cristalli Ci danno Praticamente Questi Cioè Pezzettini qui Di cristallo L'enegron Crystal Si crafta O si prende in qualche modo Oppure un drop Semplicemente Ma perché Perché stanno arrivando questi cosi? O è un drop semplicemente Un pochettino più raro Io questo non lo so Però nel dubbio Continua a prendere questi qua O era Sì in effetti ok Vediamo se si può craftare Perché io sono un po' dubbioso L'enegron crystal Eppure forse l'avevo trovato Ma se non è questo Non so cosa possa essere Sinceramente Io pensavo I ragazzi sono sceso in caverna E tipo Ero sicuro Forse ero queste robe qui Ma forse sono pezzettini Perché noi li rompiamo Forse dobbiamo prenderli Interi In qualche modo Quindi o col piccone Con silc touch Oppure c'è uno strano modo Per recuperare queste robe qua Ma che schifo Che sei Perché lì c'è l'acqua Ma è un bug? No non è un bug C'è veramente l'acqua Ma che cavolo Vediamo No però si prendono per forza Col piccone Quindi forse mi serve Veramente silc touch Non saprei Ok allora Premendo la E E andando sull'energon crystal Se premio shift Dice che Può essere preso Con il piccone Di silc touch Oppure posso minare Il blocco di cristallo E da quel che vedo C'è un nono Di possibilità Che droppi Il cristallo full Cioè tutto il cristallo Quindi effettivamente Se io in teoria Spacco 9 cristalli Potrei avere Una possibilità Che Che mi dia Il cristallo vero e proprio Cosa sei te Oddio esplodete voi Ma andate via Ma che schifo No 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 Ma ragazzi Ma che cavolo è Perché tutti questi mob In caverna Cos'è sta storia Perché è pieno di mob Oh oh C'è un altro qui C'è un altro qui C'è anche lo scheletro Eh ma dai Anche gli scheletri Hanno un bordello di vita Ma cos'è Ma no Sta continuando a spanare Ragazzi mi sa che C'è un evento strano Con la luna No mi ha seguito la strega Mi ha seguito la strega Quando ci sono eventi strani Con la luna Praticamente Possono spawnare Più mob del normale Però Cavolo Qui si esagera In certi casi Comunque Ok salendo da qua Forse riesco Ad andare a qualche parte Vediamo se Un minimo no Che il livello ovviamente Delle skill Non aumenta mai E qua è finita No Ok perfetto Ce n'è uno Droppamelo Droppamelo No Magna la vita Mi odia Il gioco mi odia Cosa cavolo sei Oh aio Fa malissimo Fa malissimo Mi ha fatto malissimo Che cavolo era Un clown No raga Qua ci vado Di meloppio Devo ucciderlo Qualcosa lì Tu Vai via Proprio Vai via Devo uccidere quel clown Avevo un'arma in mano Magari me la droppa Vediamo È un clown Veramente Ok brutto Brutto schifo Dove sei Mori 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 Ok mi ha dato qualcosa No non mi ha dato nulla Però almeno l'ho ucciso E ce l'ho nella morf Perfetto Ok ecco un altro Che stallo qui Ragazzi purtroppo la strega Non Non muore Ora l'ho ucciso Ora l'ho ucciso Veramente perché è da mezz'ora Che mi sta rincorrendo Mi sta urtando Il sistema nervoso Veramente Tanto un po' di colpi in più E muore Ok perfetto È morta Lì c'è un'altro coso del vuoto Perché questi qui sono i void qualcosa Ah no L'enderfish Ah Somiglia molto a un altro coso ender E eccolo qui Il void coso Muori No mi ha dato l'effetto lillezzo Qui dove sto andando Dio mio no 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 Ok mi sei attippato dietro Brutto schifo Mi butta nel vuoto Io recupero la vita ragazzi Perché qua ho veramente paura Stanno spawnando tipo troppi Troppi mob E io Ah mi ha dato anche un enderpearl E io sinceramente non c'ho voglia di morire Quindi penso che Mi rigenerò la vita ogni volta Che ne avrò poca No no Anche lui no Anche lui no Lo devo uccidere No quanta vita ha La vita La vita è brutta Oltretutto qui in bella vista C'era questo materiale qui Che sinceramente Non penso di aver mai raccolto E non so cosa sia Cos'è sta roba Rosite ore Che ci si fa Rosite hangot ovviamente Una spara a 13 di danno Un piccone da 4 Non sembra Ah vabbè Ah si tipo quell'altra delle armature Brood accumulator Cosa una sacca Una sacca del sangue Perché Magari si è per generare la vita Boh Sembra interessante però What Cosa cavolo sei Che schifo Trovo sempre dei mob strani Ma che cavolo è E c'è uno tipo che respira male O era lui Boh E sono tipo Strapiano di soldi Biglietto il 500 Wow Penso di aver esplorato Già tutta la caverna Quindi sto praticamente Schiamando un piccolo tunnel Sotto la lava E eccolo qua Per fortuna C'è uno qua Ok ok Allora Allora In verità pensavo di andare laggiù Perché ho visto che c'era tipo uno sbocco Però Alla fine va benissimo anche questo Cioè non mi lamento Non mi lamento Quindi Sposto un pochettino le cose Come cavolo Uh Uh Ok si perfetto Perfetto Così dovrebbe funzionare Vediamo se riesco a prenderlo No Non mi switchare Non andare nella lava L'ho preso Si Eccolo qui Eccolo qui Quindi semplicemente Dovevo fare così Devo metterci Tre di redstone qua Un blocco di redstone Che Che fino a volte Mi blocco di redstone L'ho messo qua dentro Dentro Sì Era dentro il sacottino Quindi faccio un piccolo scambio Così Ripremo la B E vediamo allora Il coso di redstone era qua Qua ci stava la redstone normale sotto Sopra ci stava questo Qua l'Enegron E manca qualcosa Io ho paura di cliccare cose Perché se tipo qua va male Veramente mi butta Cioè tutto nella lava E quindi non è proprio il caso Comunque vediamo un pochettino In Transforming Detector Eccolo qua Cosa è che manca due pezzettini di ferro Il ferro ce l'abbiamo Assolutamente sì Quindi finalmente l'abbiamo fatto Ora Siccome io penso E ripeto penso Consumi questi cristalli qui Che ne ho uno stack preciso Perché ragazzi Ne ho trovato veramente uno stack preciso Non per altro Vediamo com'è che funziona Non fa nessun rumore Se clicco il sinistro Destro Insert fuel Eh l'ho inserito Ah dice che l'ha inserito infatti Ah infatti ho 63 Ma non fa rumore Perché non c'è nulla di intorni È vero dovrei essere all'altezza 10 Vorrei soltanto vedere se funziona Oddio un creeper Ok ha fatto un bip Però dice che ho finito il fuel Fa bip Scaviamo verso Livello 0 Cosa che mi ha colpito Non lo so Aio Cos'è Uh c'era un coso invisibile Uh ha fatto bip E ci metterò 20 anni così però Ok devo inserirne altro Di Coso qua A parte che dovrei anche mangiare in effetti eh Quindi mangio un pochettino E poi vado Ok ritorniamo qui Fa bip Ok ne sta facendo molti ora Ci siamo vicinissimi No qua rallentato E da questa parte allora Eccolo qua È questo blocco Sì infatti Senti che rumore fa È impazzito ora qua È questo blocco qui in toria Vediamo Eh butto via L'iron No Transformium Perfetto Vediamo quanti blocchi sono Soltanto due pezzettini Vabbè comunque più o meno ora Se hai visto come funziona Se hai visto che funziona E vi ripeto Ora con altri due pezzi di Transformium Il modo più veloce per farmarlo È quello di fare un oggettino Molto molto bello Che è Appunto il Transformium Seed Che si fa con le nether star E i blocchi di diamante Ma è tipo una cosa impossibile da fare Quindi penso di non poterlo assolutamente fare Però magari in futuro Chi lo sa Comunque ecco Tipo rimando off camera Molto 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 tempo a farmare Queste cose qui In teoria già Non dico magari nel prossimo episodio Ma nei prossimi episodi Potrei mostrarvi qualcosa Di un pochettino più Più diamanti E quindi Ci sta come cosa Ci sta Perché potremmo fare finalmente Le armature di Transformers Che sono una cosa bellissima Detto questo ragazzi Io sono anche senza armatura Quindi un'armaturina di Transformers O qualche altra cosa Non mi guasterebbe affatto Perché sarebbe veramente utile Come cosa Detto questo Io spero che questo video L'esissimo vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti Ciao a tutti